Eccoci qui per un'altra ricetta vegana di Mirella, cosa ci hai preparato, cosa ci presenti oggi? Oggi è un cartoccio di verdure all'orientale, in realtà sono verdure molto semplici e rimangono croccanti perché vengono cotte in un cartoccio di carta stagnola. Favoloso, procediamo, procediamo. Gli ingredienti di questa ricetta sono broccoli, carote, zucchine, una cipolla bianca molto dolce e una mela verde, olio, un pochino bianco, sale e un pizzico di zenzero che dà il gusto all'orientale. Ho fatto sbollentare i broccoli, le carote e le zucchine perché non rimangono troppo dure e adesso andrò tagliare. Togliate il broccoli, lo sbollentate, lo metto nel cartoccio e lo sale. Aggiungo le carote e le zucchine, lo sbollentate, anche questo lo sale. Poi prendo una mela verde con la buccia precedentemente sbattata e la taglio a cucchini e sottili. Aggiungo la mela tagliata e poi procedo con la cipolla. Salo il frutto, metto un pochino d'olio di oliva, mezzo bicchiere di vino bianco. E per dare il tocco all'orientale, un pizzico di zenzero. Ora chiudiamo bene il cartoccio. Va messo in forno a 180 gradi per un quarto d'ora circa. Il cartoccio dovrebbe essere pronto. Lo parliamo dal forno. Lo mettiamo all'impiatto. Le verdure rimangono belle croccanti. E le verdure orientali sono pronte. Un altro piatto che fa bene alla salute, che si presenta gustosissimo e che noi tra poco assaggeremo. Grazie Mirella. Prego.